Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, sono Plasican68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati su Dragon Ball Xenoverse 2 e siamo con il video, tra virgolette, showcase, come starete vedendo sicuramente a schermo, di Super Baby Vegeta 2. Finalmente, extra pack 3. Insomma, affrontiamo questa nuova missione parallela insieme a Fu, come potete vedere, ma anche insieme a questa squadretta. Eccoli qui, Majin Vegeta e Vegeta Super Saiyan Blue. Attendiamo un attimino che finiscono di parlare questi qui, cioè è incredibile, intanto carichiamoci un attimino. Anche se, io con Super Baby Vegeta 2 voglio mostrarvi assolutamente la sfera vendicativa. Perché? Perché? Ricordo una feature davvero molto molto interessante, ma non ditemi che quella è tutta l'energia di Super Baby Vegeta 2, eh. Vediamo. Perché? Oddio, ma... Cosa è successo? Era la missione così, eh? Non ricordo. Perché abbiamo perso tutta quell'energia così a casissimo? Spiegatemela sta roba. Deve essere successo qualcosa, sì. Deve essere assolutamente successo qualcosa. Ehm... Forse sono io che non ricordavo la missione, ecco, la parallela. Allora, infatti mi sembrava strano. Cioè, era praticamente un'ultima... L'ultima attacca d'energia di qualsiasi personaggio. Ed eravamo partiti in quel modo con Super Baby Vegeta 2. Tra l'altro abbiamo perso metà... Metà energia così dal nulla. Soltanto per essere passati all'interno del portale. Tra l'altro sti qui non si stanno facendo nulla, eh. Attenzione. Allora, adesso proviamo come si deve Super Baby Vegeta 2. Però datemi un attimino perché... Ok. Facciamo danno. Facciamo danno, quindi va bene. Allora. Han cambiato le animazioni o sbaglio con quest'ultimo aggiornamento dei super cattivi? Ok. Sì, mi sa che le han proprio cambiate. Sono molto molto belli così. Davvero fighi. Allora, queste qui sono le combo standard di quadrato con Super Baby Vegeta 2. Insomma, per un pochino cerchiamo di mettere da parte l'allenamento iniziale. Ecco, per lo showcase dei personaggi. Però magari se siete interessati al danno che fanno le Supreme posso specificarvelo all'interno di un commento. Magari. Insomma, fatemelo sapere. Allora. Comunque la sfera letale della vendetta o vendicativa dovrebbe essere una delle mosse sicuramente che fanno più danni in assoluto all'interno del gioco. Fidatevi. Se non quella che fa più danni. Poi vi farò sapere. Allora, queste qui sono le combo di triangolo che starete vedendo sicuramente malissimo perché la telecamera purtroppo non ci aiuta. Niente, non riesco a provarla come si deve. Eh, vabbè. Freezer continua a scappare. Vediamo un attimo colpo inverso. Ok, queste sono le mosse che praticamente vedemmo già all'interno del mini showcase di quella live. Della live che vi mostrei anche sul canale. Quindi molto carino. Abbiamo poi a fondo alternativo. Ok. Questa qui anche la ricordo. Era la mossa che praticamente continuava in base a se beccavate il nemico, in fin dei conti. Eh, parlo al passato ovviamente perché sono mosse che ricordo queste qui dalla live. E che studiai anche un attimino approfonditamente. Ora, non è che le ricordi più di tanto, però, comunque, mi sembrano davvero molto molto carine come mosse. Davvero carine. Eh, allora, continuiamo qui a distruggere Golden Freezer che finalmente riusciamo a buttare giù. Perfetto, nuovi nemici. Abbiamo Gotenks e Piccolo. E allora, continuiamo ancora una volta con le altre skill. Abbiamo il Lampo Finale Vendicativo che quindi passa dall'essere una sorta di Suprema ad un'abilità, ecco, normalissima, però. Non so se ci state facendo caso insieme a me, ma... No, oddio, no, 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 assolutamente. No, non continua. Pensavo continuassi in base all'aura, però voglio provare una cosa adesso insieme a voi. Allora, Sfera Letale Vendicativa. Se noi carichiamo 300 d'aura si attiva. Teniamola un attimo a caricare la Sfera Letale. Ora, teoricamente, se volessi farla partire così, probabilmente la potenza della Sfera Letale varia in base all'aura che caricate. Vediamo, eh. Allora, facciamo partire, prima di tutto, una Sfera della Vendetta, Letale della Vendetta o Vendicativa. Eh, comunque... oddio. Allora, io devo capirla, sta cosa. Probabilmente aumenta sia in grandezza che in danno, ok? Ora, se io tengo caricata tutta l'aura, teoricamente, questa Sfera dovrebbe già partire qua, tipo, al massimo adesso. Ecco. Ecco, quindi la grandezza è abbastanza... è considerevole, diciamo, rispetto all'inizio. E credo che il danno aumenti, solo che non riusciamo minimamente a beccare un nemico. Non capisco il motivo. Allora, io non so voi, ma sto perdendo un casino di tempo con sto piccolo che, prima di tutto, non si fa... Cioè, non subisce estamina breve. E poi scappa continuamente! Credo si sia buggata la missione, perché scappa continuamente, non attacca più! Sto maledetto! Sto facendo anche un casino lì con la chat, non ce la posso fare! Scappa costantemente! Allora, Sfera Letale della Vendetta, dai! Facciamogli la partita, finalmente! Se l'è beccata, e non ci potevo mai credere! Cioè, possibile come cosa questa? Allora, non carichiamoci, lasciamoci a 300 d'aura, perché credo sia, diciamo, l'aura necessaria per Super Baby Vegeta. Anche perché, caricate in fin dei conti la sua Suprema, già soltanto, cioè, soltanto col comando della Suprema. Quindi caricate l'aura tramite la Sfera della Vendetta. Quindi proviamoci, meno male che Kid Buu non ci sta minimamente calcolando. Non si becca il minimo danno, tra l'altro, chissà che si è beccato quel danno della Sfera. Vabbè, sta missione, vi dico, non la sto minimamente capendo. Comunque, ci sto facendo caso solo adesso, ma abbiamo poco vigore con Super Baby Vegeta 2. Insomma, personaggio bello, ma fino ad un certo punto questo qui, eh, secondo me... Cioè, lo vedo abbastanza difficilotto ad utilizzare, però lo vedo anche un personaggio che fa abbastanza danni, eh. Non so, continuiamo a perdere tantissima energia, tra l'altro. Non credere che io sia la stessa persona. Continuo ad essere convinto, non lo so, c'è qualcosa di strano. Oh, e fu che ci ha fatto qualcosa all'interno di questa missione ed è questo il motivo per cui perdiamo così energia costantemente. Oppure la Super Anima che fa qualcosa di strano. Non ne ho idea, non capisco, non capisco sinceramente. Prendiamoci un'altra capsula, ma... Bah, devo capirla questa come cosa. Allora, andiamo con la Sfera Letale, falla partire per favore. Ok. Quindi, almeno riesce a partire la Sfera. Insomma, a livello di combo non mi sembra per nulla messo male il personaggio, eh. L'unico problema è che, possedendo poco vigore... No, 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 ehm... Confermo, le combo sono molto belle. E... Sono anche abbastanza concatenabili, probabilmente. L'unico problema è che, davvero, possedendo poco vigore il personaggio... Lo sapevo che Sergi stava per far partire la Kamehameha addosso. Ed era su di noi. Dicevo, possedendo poco vigore non riusciamo a portare avanti le combo... Diciamo, per tantissimo tempo, ecco, per tantissimi colpi. Però, facciamo danni. Questo è l'importante. Facciamo, secondo me, molti danni. Calcolando anche che i nemici sono dei super cattivi. Quindi, tutto sommato, diciamo che va bene. Può andar bene. Sfera Letale della Vendetta ancora una volta. Che, purtroppo, non va completamente a segno. Broly, mi dispiace, ma non ti faccio lanciare questa Suprema. Dirmi nulla. Quindi, carichiamoci altri 300 Tauri e proviamo ancora una volta a far andare... Eh, no, vabbè, inutile. Allora, proviamo colpo inverso. Che non riesce ad attaccare per la prima volta Cell, ma gli torna praticamente addosso e riesce, quindi, a quel punto ad attaccarlo. Che ne dici di questo colore? Vabbè, per quale motivo abbiamo beccato questo trofeo? Non ne ho idea. Probabilmente sarà nuovo o non lo so. Comunque, signori, a questo punto otteniamo Cristallo Rigenerante e anche Smoking. Dovrò farmarmi tutto sto set perché sono curiosissimo. Quindi, signori, a questo punto torniamo a Canton City. Ah, e otteniamo anche 5 medaglie. Va bene, torniamo. E quindi, signori, questo qui, infine, era il personaggio di Super Baby Vegeta 2. Insomma, devo dirvi la verità. Ero partito un attimino più carico, più carico riguardo il personaggio. Non lo so, la prova non mi ha lasciato tantissimo. Cioè, le combo sono carine, le skill altrettanto. La super sfera letale vendicativo, come caspito si chiama, è molto bella. Probabilmente fa dei danni assurdissimi che non stanno né in cielo né in terra. Ma è abbastanza complicatuccia da utilizzare. Nel senso, me l'aspettavo un attimino più buggata. Vi dico la verità, mi aspettavo davvero la suprema più buggata di tutto il gioco. Comunque, tranquilli, perché avremo modo sicuramente di riprovarla. Se non va derrato, l'hanno anche aggiunta farmabile e quindi la potremmo farmare per il nostro pattugliature. Insomma, avremo modo di riprovarla e vi farò sapere. Ecco, video raggiornati. Quindi, non perdetevi assolutamente i prossimi video che arriveranno proprio su Dragon Ball Xenoverse 2 e sull'extra pack numero 3. Quindi, signori, a questo punto, tanti mi piace per altri video su Xenoverse 2. Commenti, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Condividete questo video. Ovviamente sì, fatemi sapere cosa ne pensate di Super Baby Vegeta 2. E quindi noi ci dobbiamo appuntamento, come al solito, ad un prossimo video.